Cristian Chalanda, settima posizione, All-in K6 trova Asso-Donna e perde. King and Six, Ace and Queen, nothing to do. Sì, ho avuto un M7, un M8, e un piccolo blind che ho dovuto aprire. Ha una mano, è normale. Qual è la tua impressione su questo Ipo? Molto simpatico, è la prima volta che ero qui e mi piace la struttura e l'ambianza.